Bisogna fermare questo ignobile mercato dei vaccini. Oggi al Consiglio europeo l'Europa deve dire una cosa chiara, stop all'uso dei brevetti perché le vaccinazioni vanno garantite a tutti noi e a partire da paesi poveri. Quello che è accaduto ad Anania con AstraZeneca è un fatto inaccettabile. Il mercato dei vaccini è un insulto alla vita, è un insulto a coloro i quali oggi si stanno battendo per tutelare la vita di fronte a questo dramma della pandemia da Covid-19.